buongiorno a tutti ci troviamo questa mattina qui a ciria nella tabaccheria san rocco del titolare sasso sono stati vinti ieri sera in circa un'ora di chiusura la somma di ben 50 mila euro giocando una schedina del 10 lotto con il super oro signor sasso cosa com'andata la cosa ma un cliente che gioca normalmente ha giocato la schedina poi lo vedo molto sorridente che arriva invece deve essere uscito qualche numero effettivamente abbiamo controllato ed erano usciti 9 numeri su 10 fa una bella vincita un bel natale e un cliente abituale del vostro negozio può una presi passaggio viene che viene abbastanza spesso gioca abbastanza si potremmo definirlo un cliente abituale da quando voi siete qui titolare di questa tabaccheria sono state altre altre vincite consistenti o questa è prima l'anno scorso ma eravamo qui da poco avevano vinto 40 mila euro a lui for life poi molto spesso 1.500 vincite comunque piacevoli ma più piccole comunque questa sì in assoluto la più grossa finora